Benvenuti a Marassi, questo è Sam Pinter, naviganti, un saluto da Piero Cipardo e da Gianluca Pagliuca. Quelli della Zampan, addirittura il marinaio nel simbolo, da sempre sognavano acque così alte, nessuna vertigine, però dall'altra parte c'è un ammiraglio navigato che sente in anticipo il rumore delle barche nemiche, le acque, spesso lui è il primo a smuoverle, il principe è il pazzo, lo speciale è Peter Pan, chi vince va almeno per qualche ora, in testa della classifica. Prova ad andare profondo, Eto'o con il petto, splendido su Cambiasso, si sta prendo Milito, una buona idea, Castellazzi accenna l'uscita, poi ritorna fra i pali, palla per Cambiasso, Castellazzi, vediamo se è lì, no, arriva prima in anticipo, Stanchevicius, grande occasione per l'Inter. Si fa vedere Cassano subito, e viene servito. Vediamo se c'è il tocco di ritorno per Bellucci, no, c'è il cross morbido sul secondo palo, Vieramette fuori, poi il sinistro, ancora palomba la caccia del pallone, alla fine riesce a cavarsi la difesa dell'Inter, ma clamorosa opportunità. Gran palla di Cassano dentro, e poi non troppo precisa la difesa dell'Inter, qui c'è fallo dietro. Tocco corto su Maicon. Maicon a Milito, numero, ancora Milito, fino in fondo, Milito sul sinistro, chiuso da Castellazzi. Lucio, se migliora un filo dal punto di vista della concentrazione, perché ogni tanto lui ha queste escursioni e queste amnesie, dal punto di vista fisico e tecnico, un gran giocatore. Occhio all'avanzata da parte di Balotelli, prova la deviazione, Castellazzi, Milito scivola. Qui era stata fortunata l'Inter nel trovare la deviazione, e sfortunata perché Milito è scivolato sul più bello. Invece sta anche Vicious, va dentro a cercare Cassaldello, palla buona per Pazzini, destro, fuori di nulla. Cassano, numero per Mannini, non c'è arrivato, adesso Bellucci dall'altra parte, non c'era arrivato Pazzini, Bellucci ha provato a sardire Poli, grande palla di Cassano questa volta. Palla buona verso Milito, ecco Eto, prova Eto! Palla buona per Palombo, Cassano deve uscire dal fuorigioco, il tocco su Mannini, vai dentro, una zero in aria, Pazzini! Pazzini sotto la sud, sull'errore di Santon, grande reattività blucerchiata. Errore grave di Santon, signorimessa, bellissima azione della Samp, palla dentro, Pazzini ha fatto un bellissimo gol. I cinque saltatori, occhio alla battuta verso Lucio, palla messa fuori, Quaresma si può coordinare, Quaresma, deviato! Uno, uno, attenzione, attenzione fuorigioco, fuorigioco. Sì? Sì. Parte Lucio, su per Castellazzi! Il cielo su Marassi stanotte blucerchiato, la Samp è in testa alla classifica, vince 1-0 col gol.